Ehi fratello benvenuto in un nuovo video Devi sapere che su Fortnite hanno aggiunto le skin di Miro Academy Roba veramente molto figa, io tra l'altro con Miro Academy sto in fissa ormai da anni Quindi fratello la sfida di oggi è non trovare All Might, se lo troviamo il video finisce Mi raccomando lascia like, iscriviti altrimenti per le prossime challenge E soprattutto scrivimi nei commenti una challenge che tu vorresti vedere Allora, tendenzialmente la sfida si può fallire perché sono i primissimi giorni di All Might Quindi è anche probabile che io mi trovi qualcuno che ha comprato la skin D'altra parte però quella di All Might, a differenza della skin, non lo so, di Deku o di Kachan È una skin veramente gigantesca ragazzi Cioè veramente comprarla, non dico che trascenda il pay to lose Ma tendenzialmente sì, è veramente una skin imbarazzante Speriamo che... mamma mia quanta roba... ah mi aveva trovato questo Un tizio si sta curando Dagli treni Mamma mia bro, ormai sono Matrix, cioè neanche mi colpiscono più Magari nella cesta? Una bella pistola, dai, ci vuole, ci vuole da sesto Pistola, niente Vabbè, è rip Oddio, forse è qua? Pistola, palese, palesissimo È lui No, ok, vabbè, vabbè cure Vediamo il perk del giorno More parkour No, no, vabbè, vabbè Ho scelto il perk al momento, ho sbagliato Gli sta Col DMR, fai un po' te Anche il bro c'è il martello Il tizio col DMR fa male Ah, pistola, vabbè Si può fightare ora Serve in prospettiva Ok Easy Se muoio perché questa cosa c'è una rosa imbarazzante No C'aveva veramente una rosa bruttissima Non l'ho mai usata così da lontano Ok Non sto messo Ma quello era il Might Sì, è il Sì, è il Sì, è il